La porterà ad incontrare una persona di cui non sapeva l'esistenza ma si rivelerà essere un suo parente e la bambina ha letto il libro? Sì. Sì, ha letto il libro, questa è la novità, l'annunciamo qui che ha letto il libro, ti lascio andare avanti? Sì, sì, la bambina ha letto il libro, ma giustamente perché insomma il tempo passa, cresce, diventerà una donna speriamo che dimentichi il più possibile, che recuperi tutto, sì, la bambina l'ha letto con il papà e la mamma e le è piaciuto, ecco, anche lei nonostante il papà mi avesse detto che dovevo essere più incisiva, anche lei ha detto no mi piace così, perciò ecco, la cosa mi gratifica molto, no, questo mi fa molto piacere Anche perché era lei la protagonista, per cui insomma salvaguardiamola un pochettino Io ti ringrazio Raffaella, ringrazio tantissimo anche chi si è fermato ad ascoltarti Ricordiamo che il libro è in vendita, prezzo di presentazione 10 euro al posto di 12 euro e sei disponibile per gli autografi di rito, grazie Grazie